Campionato primavera 1 team recupero della sesta giornata al campo garrone di Bogliasco si affrontano Sampdoria e Spal fischia l'arbitro Costanza subito la Spal in Sampdoria in avanti con il colpo di testa di Trimboli inquadrato mister Scurto tiro di Siatunis con il tiro che viene parato da Galeotti in avanti la Spal ora con la uscita protetta da parte di Saio sull'incedere di Carra poi al 25esimo il colpo di testa di Angileri su cross di Canovi porta in vantaggio la Sampdoria rivediamo la parabola di Canovi con il colpo di testa puntuale di Angileri sul secondo palo la reazione della Spal con Keyar va al cross e Carrà va a spedire sull'esterno della rete ancora la Spal Attis per il cross di Alcides bloccato a terra da Saio che però sbaglia questo rinvio sempre Keyar va al cross e Saio si riscatta con una bella presa alta finisce il primo tempo sul punteggio di 1 a 0 per la Sampdoria sulla Spal che reagisce e arriva a sfiorare l'1 a 1 con Keyar che viene fermato da Iepeslaut, cross di Iskra, Ellerson e Iabra che va al tiro, ci sono due deviazioni prima quella di Iaquino e poi quella di Canovi e la Spal pareggia all'ottavo della ripresa rivediamo il pallone in rete poi su questa punizione di Trimboli c'è il cosmo di Stefano e poi il clamoroso infortunio di Raitanen viene assegnato il gol alla Sampdoria che colpisce anche un palo andando a sfiorare così il 3 a 1 punizione di Zanchetta, la palla viene respinta Keyar il tiro in angolo la parata di Saio finisce il match, Sampdoria batte Spal 2 a 1 con Giuseppe Carrà commentiamo questa partita che ha visto la sconfitta della Spal 2 a 1 a Bogliasco contro la Sampdoria, vi siete battuti avevate rimesso in piedi il match, poi un infortunio un maninteso tra Raitanen e Galeotti ha deciso tutto che cosa hai da dire? sapevamo che era una partita difficile infatti è stata una partita difficile abbiamo fatto due errori e li abbiamo pagati e alla fine non ce l'abbiamo fatta recuperare partita anche condizionata dal freddo e dal vento che vi ha anche impedito di poter manovrare dopo il gol subito? si, lo sapevamo che era una partita difficile però ora pensiamo subito alla prossima e cancelliamo questa partita resta però, nonostante questa sconfitta, lo stupendo campionato che state facendo avete 17 punti, qual è il vostro obiettivo? vi siete montati alla testa? no, l'obiettivo è salvarci però dobbiamo continuare così e migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita con mister Giuseppe Scurto commentiamo questa seconda sconfitta per la Spal dopo la ripresa del campionato tanti episodi, quasi tutti sfavorevoli alla Spal come commentare questo match? è stata una partita abbastanza equilibrata è chiaro che gli episodi hanno deciso la partita ci siamo fatti gol da soli in un momento in cui stavamo comunque facendo abbastanza bene dispiace per la sconfitta perché credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto in campo è difficile anche manovrare con questo vento soprattutto quando vi siete trovati nella condizione di dover recuperare a fine secondo tempo non avete avuto la possibilità anche di azioni pulite per poter provare a trovare il 2 a 2 sì, il vento sicuramente oggi ha condizionato molto la partita su un campo comunque piccolo, stretto chiaramente è stata una partita un po' condizionata dalle condizioni medio però devo dire questo vale sia per noi che per la Samp è un peccato perché sicuramente potrà venire fuori una partita anche da un punto di vista tecnico migliore campionato duro, campionato tosto con tante giornate ravvicinate adesso ci sono altre partite molto importanti a cominciare da quella con la Lazio? sono tutte partite molto difficili, è un campionato con tante squadre di alto livello per cui sappiamo che dobbiamo lottare partita per partita per cercare di portare a casa più punti possibili continuate a dire che l'obiettivo resta la salvezza nonostante la classifica al momento di caltro? basta leggere i nomi delle squadre di questo campionato per capire che l'obiettivo della spalla è sicuramente quello della salvezza non sarà semplice perché è un campionato dove sono presenti tutte le migliori squadre della Serie A con risorse molto importanti a disposizione per cui è chiaro che noi dobbiamo essere consapevoli della difficoltà e dare tutto quello che possiamo dare